Chiara e Federico sono a Portofino, incontrano un gruppo di signore in vacanza e Fedez diventa la star. Queste sono le idee di Fede. Questo è un cuore, perché io amo mia moglie e mia moglie ama me. Viva l'amore! Sì, è un po' di più. Che vuoi fare il video? Fermi tutti, che la signora vuoi fare la foto! Signora, ecco, no, hai pensato alla signora? Siete amiche? No, allora, signora, deve fare la foto la signora. Ok. No, io voglio un selfie con me. Ok, lo faccio io. Eccoci qua. Ragazzi, buona giornata. Eccolo qui. Un saluto a tutta Como. Ciao, ciao, sono qua, ciao. Grazie, ciao. Andiamo, ciao. Bene. Io sto facendo i video. Siete vediamo sempre con il tuo figlio, il tuo figlio. Ma siete due comici. Grazie mille. Con il tuo figlio. Grazie mille, signora. Siete una cosa. Grazie. Vede, spiegando. Ciao. Ciao, c'è la Ferragli. E anche lei, proprio lei. Grazie, signora. Sono sul telefono con il tuo figlio. Signora, quella signora deve fare la foto. Vuole venire a fare la foto anche lei, quella signora? No, quella signora lei. E giungo anche... Non devi essere gelosa, amore. Che cosa? Eh, dai. Tranquilla, sono tutto tuo io. Tutto tuo. Federico è diventato una star con le signore, si è fotografato con loro e loro sono rimaste molto contenti. Poco di meno Chiara che è diventata molto, molto gelosa. Fuori, è vero. Grazie mille. Grazie a tutti.